caro emanuele benvenuto a questa nuova lezione del corso di edizione di caruso speaker oggi riprendiamo il nostro discorso riguardo ai colori della voce e poco fa ti chiedevo qual è l'emozione o soprattutto il colore la modalità dell'uso della voce sulla quale vorresti lavorare di più e tu mi hai risposto la autorevolezza giusto autorevolezza ok quindi sull'auto e oggi lavoreremo sull'autorevolezza prendendo in considerazione un un monologo di tratto da ollie da un film molto famoso non so se l'hai mai visto ogni maledetta domenica è un film con il protagonista al pacino il quale è un bravissimo coach di rugby che però cade in disgrazia per tanto tempo e poi viene ripescato nel guidare questa squadra che è un po sgangherata e poi riesce comunque a tirarla su e a ottenere delle buone posizioni in campionato e addirittura potrebbe anche vincerlo e questo discorso che ti farò leggere è un discorso motivazionale che tra i più gettonati nell'ambito della crescita personale se tu fai una ricerca su google e cerchi i migliori discorsi motivazionali lo troverai sempre al primo posto perché è considerato un discorso molto molto motivante molto molto autorevole e al tempo stesso di sprono per questi giocatori che lo ascoltano prima di iniziare questa partita decisiva e quindi è un po come quella sporca ultima meta cioè lui fa questo discorso motivante per far capire a questi ragazzi che sono giovani mentre lui ormai è vecchio e su sul viale del tramonto loro che sono giovani possono ancora dare tanto in questa partita devono rubare centimetro per centimetro per raggiungere il la vittoria perché ogni centimetro può fare la differenza tra la vittoria e la sconfitta e quindi tra vivere e morire ora è sicuramente un monologo che ripeto famosissimo interpretato da al pacino che poi è interpretato a sua volta nel doppiaggio da giancarlo giannini hai mai visto questo film non ti è capitato eh Emanuele ti è mai capitato di questo discorso aspetta che non ti sento più ah c'è stato uno sgancio sicuramente lo conosco l'ho sentito l'ho sentito nominare però no forse no sai ok mi senti sì c'è stato aspetta bene riprendiamo e a questo punto ti voglio mostrare questo video tratto dal 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 film che ti dicevo e adesso c'è lo sto caricando ovviamente c'è la solita pubblicità eccetera allora lo condivido con te vediamo se perché su zoom devo capire come si fa a condividere anche l'audio tu lo sai come si fa ogni volta non ci riesco allora allora condividi a condividi suono vedi parca miseria allora vedi un po se lo senti non so cosa dirvi davvero lo senti sì ok tre minuti alla nostra più difficile sfida professionale tutto si decide oggi ora noi o risorgiamo come squadra o cederemo un centimetro alla volta uno schema dopo l'altro fino alla disfatta siamo all'inferno adesso signori miei credetemi e possiamo rimanerci farci prendere a schiaffi oppure aprirci la strada lottando verso la luce possiamo scalare le pareti dell'inferno un centimetro alla volta io però non posso farlo per voi sono troppo vecchio mi guardo intorno vedo i vostri giovani volti e penso certo che ho commesso tutti gli errori che un uomo di mezz'età possa fare sì perché io ho sperperato tutti i miei soldi che ci crediate o no ho cacciato via tutti quelli che mi volevano bene e da qualche anno mi dà anche fastidio la faccia che vedo nello specchio sapete col tempo con l'età tante cose ci vengono tolte ma questo fa fa parte della vita però tu lo impari solo quando quelle cose le comincia a perdere e scopri che la vita è un gioco di centimetri e così è il futuro perché in entrambi questi giochi la vita il football il margine di errore ridottissimo capite no mezzo passo fatto un po in anticipo in ritardo e voi non ce la fate mezzo secondo troppo veloce o troppo lenti e mancate la presa ma i centimetri che ci servono sono dappertutto sono intorno a noi ce ne sono in ogni break della partita ad ogni minuto ad ogni secondo in questa squadra si combatte per un centimetro in questa squadra massacriamo di fatica noi stessi e tutti quelli intorno a noi per un centimetro ci difendiamo con le unghie con i denti per un centimetro perché sappiamo che quando andremo a sommare tutti quei centimetri il totale allora farà la differenza tra la vittoria e la sconfitta la differenza tra vivere e morire e voglio dirvi una cosa in ogni scontro è colui il quale è disposto a morire che guadagnerà un centimetro e io so che se potrò avere un'esistenza pagante sarà perché sono disposto ancora a battermi e a morire per quel centimetro la nostra vita è tutta lì in questo consiste e in quei dieci centimetri davanti alla faccia ma io non posso obbligarvi a lottare dovete guardare il compagno che avete accanto guardarlo negli occhi io scommetto che ci vedrete un uomo determinato a guadagnare terreno con voi che ci vedrete un uomo che si sacrificherà volentieri per questa squadra consapevole del fatto che quando sarà il momento voi farete lo stesso per lui questo è essere una squadra signori miei perciò o noi risorgiamo adesso come collettivo o saremo annientati individualmente è il football ragazzi è tutto qui allora vai coach che cosa volete fare ebbè 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 che è una bella storia è bella 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 Allora, è uno dei discorsi motivazionali più importanti, quindi te lo sei ricordato, ti è venuto a mente? Sì, sì. Ah, ok, ok, quindi te lo ricordavi. Ok, allora, bene, adesso ti dicevo che devo fare, qua c'è Al Pacino, qua c'è Giancarlo Giannini, questo è pazzo, che cosa mi vuole fare fare? Allora, sì, sì, sono pazzo, questo è vero, però sono un folle, non sono proprio joker, però comunque ogni tanto mi vengono delle cose di follia creativa. Allora, sinceramente, cosa ti ha comunicato questo monologo? Ti ha trasmesso una certa autorevolezza? Credo di sì. Certo, sì. Eh, quindi quello che lui dice, ma come lo dice? Uno perché c'ha quella voce, quella che c'ha Giannini, che è praticamente inconfondibile, quindi già quando parla lui, ciao, lo ascolti. Poi metteci pure Al Pacino. Ha sempre avuto questo doppiatore comunque, no? Beh, no, Al Pacino è stato doppiato pure da Ferruccio Amendola, no, 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 diciamo che fino a quando c'era Ferruccio Amendola lui faceva sia Robert De Niro che Al Pacino, tant'è vero che, fu una cosa assurda, quando ci fu Hit, la sfida, che c'erano Robert De Niro e Al Pacino, disse Ferruccio Amendola che voleva fare tutti e due. Ecco, sai da ricoverare, perché come faccio a farti fare tutti e due. No, 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 perché io posso farlo. Vabbè, insomma, poi alla fine scelsero pure di fargli fare... Non mi ricordo lui che faceva, se non mi sbaglio fece De Niro e poi Al Pacino lo fece qualcun altro. Poi dopo, quando è morto, poi sono cambiati, però soprattutto Giannini è quello che fa Al Pacino, che io possa, che io ricordi. Ebbene, adesso noi prendiamo questo monologo che è molto lungo, quindi noi dedicheremo sicuramente sia oggi che la prossima volta a studiare il modo in cui rendere autorevole questo discorso. Lo dividiamo in due parti. Ma che dobbiamo fare? Non è che devi diventare Al Pacino, né devi essere Robert De Niro. Però io la clip del film te la girerò, così tu te la puoi riascoltare, che sia bella perché comunque ti motiva a trovare un motivo nella vita per vincere e quindi raggiungere quella meta. Ma anche perché, soprattutto, è un bel esempio di come essere autorevoli, al limite poi dell'incazzatura, perché comunque poi lui è arrabbiato in generale con la vita, con se stesso, perché lui dice io ho commesso tutti gli errori che un uomo di mezza età possa fare. Ci crediate o no, ho spreperato tutti i miei soldi. Ho cacciato via tutte le persone che mi vodevano bene. E da qualche tempo a questa parte, quando mi guardo allo specchio, odio pure quello che vedo. Quindi mi spuderei in faccia quando mi vedo. Insomma, proprio ridotto ai minimi termini. Ciò nonostante io sono qui per dirvi che oggi dobbiamo fare la partita, dobbiamo vincere questa partita perché scendere in campo e conquistare centimetro per centimetro la meta farà la differenza tra vincere e perdere, tra vivere e morire. Adesso io condivido con te questo monologo e noi insieme cerchiamo anche di analizzarlo. Cosa ti ha colpito di più di questo discorso? C'è stato qualcosa in particolare che hai... un passaggio, qualcosa che ti ha colpito di più? No, in generale mi piace l'esposizione per la valorizzazione delle pause che fa. Eh, esatto, bravo. Che tiene fa una... Giusto, c'è stata osservazione, bravo. Cioè tiene alto l'attenzione e rende incisivo comunque anche i silenzi, come dire. Giusto, giusto, giusto. Mi è piaciuto molto. Eh sì, perché la capacità che ha questo monologo è certamente quello di tenerti incollato lì. Giusto? Cercare di capire come funziona. Va bene. Adesso quindi lo condivido con te e noi ce lo cominciamo a leggere. Lo leggiamo fino a un certo punto, lo analizziamo, eh? Lo leggiamo un po' volta per volta. Cominciamo a leggerlo. Adesso leggiamolo come tu solitamente leggeresti, secondo quelle indicazioni. Rispettando la punteggiatura, le cose. Non fare nessuno sforzo interpretativo, perché poi lavoreremo sull'autorivolezza per cercare di rispettare quelle modalità che contraddistinguono appunto l'uso della voce blu, quella dell'autorivolezza. Eh? Ok. Allora, quando vuoi possiamo cominciare a leggere. Non so cosa dirvi, davvero. Aspetta che ti sento attratti. Che è successo? La connessione. Metronomo, vero? Ma per il momento non ce n'è bisogno, però mentalmente ricordati... Ok. È la prima volta che lo leggi, quindi puoi andare pure a 90 col metronomo, idealmente. Ok. Non so cosa dirvi, davvero. Tre minuti. Alla nostra... Ora noi o risorgiamo come squadra o cederemo un centimetro alla volta. Uno schema dopo l'altro. Credetemi. E possiamo rimanerci, farci prendere a schiaffi, oppure aprirci la strada lottando verso la luce. Possiamo scalare le pareti dell'inferno un centimetro alla volta. Io però non posso farlo per voi. Sono troppo vecchio. Mi guardo intorno, vedo i vostri giovani volti e penso... E penso... Certo che ho commesso tutti gli errori che un uomo di mezza età possa fare. Sì, perché io ho sperparato tutti i miei soldi e ci crediato no. Ho cacciato via tutti quelli che mi volevano bene e da qualche anno mi dà anche fastidio la faccia che vedo nello specchio. Sapete, col tempo, con l'età, tante cose ci vengono tolte. Ma questo fa parte della vita. Però tu lo impari solo quando quelle le cominci a perdere e scopri che la vita è un gioco di centimetri. E così è il football. Perché in entrambi questi giochi la vita è il football, il margine di errore è ridottissimo. Capitelo. Mezzo passo fatto un po' in anticipo, voi ritardo e voi non ce la fate. Mezzo secondo troppo veloce o troppo lento e mancare la presa. Ma i centimetri che ci servono sono dappertutto. Sono intorno a noi. Ce ne sono in ogni break della partita. Ad ogni minuto, ad ogni secondo. Ok. Hai visto che più leggevi e più sei diventato carico? Sì. Ti sei caricato. Ok. Perché all'inizio lui parte soft e poi pian piano. In realtà dobbiamo dire anche una cosa. È che questo discorso parte inizialmente con una voce verde. Sì. Che comunque è calmo. Quindi non so cosa dirvi davvero. Tre minuti è la nostra più difficile sfida professionale. Tutto si decide oggi. Ora noi o risorgiamo come squadra o cederemo un centimetro alla volta. Quindi lui è molto così discorsivo. Quindi diciamo che per la prima parte accontentiamoci di avere una voce verde, quella rassicurante. Poi la svolta avviene quando... Io però non posso farlo per voi. Qua comincia a essere un po' più autorevole. Sono troppo vecchio. Mi guardo intorno. Vedo i vostri giovani volti e penso... Certo che ho commesso tutti gli errori che un uomo di mezza età possa fare. Qua di nuovo voce verde. Sì, perché io ho sperperato tutti i miei soldi, che ci crediate o no. Ho cacciato via tutti quelli che mi volevano bene. Da qualche anno mi dà anche fastidio la faccia che vedo nello specchio. Sapete, col tempo, con l'età, tante cose ci vengono tolte. Ma questo fa parte della vita. Però tu lo impari solo quando quelle le cominci a perdere. Scopri che la vita è un gioco di centimetri. È così il football. Quindi diciamo che l'autorevolezza comincia da sapete col tempo, sapete col tempo, con l'età, tante cose ci vengono tolte. Ma questo fa parte della vita. Vogliamo rileggere questa parte cercando, ecco, non di imitare al vaccino, ma di dare... Ricordiamoci quali sono i fattori che determinano la voce blu dell'autorevolezza. Innanzitutto abbiamo un sorriso. Ricordiamoci che il sorriso c'è sempre. Ed è un sorriso sicuro. Poi abbiamo un volume che è medio-alto. Poi abbiamo invece un tono che è medio-basso. Mentre invece quello della voce verde, della calma, è un volume di voce basso. Invece qua è medio-basso. E poi abbiamo un ritmo che è medio, scusami, un tempo che è medio e un ritmo con delle pause nette, che va a sottolineare. Quindi ciascuna pausa la sottolineiamo bene. Chiaro questi fattori? Ok. Allora, facciamoci una lettura così, distinto. Mettendo bene il risalto le pause, facendo le belle nette, facendole sentire. Ma questo fa parte della vita. Però tu lo impari solo quando le cominci a perdere e scopri che la vita è un gioco di centimetri. E così è il football. Perché in entrambi questi giochi, la vita è il football, il margine di errore è ridottissimo, capitelo. Mezzo passo fatto un po' in anticipo o in ritardo e voi non ce la fate. Mezzo secondo troppo veloce o troppo lento e mancate la presa. Ma i centimetri che ci servono sono dappertutto. Sono intorno a noi. Ce ne sono in ogni break della partita, ad ogni minuto, ad ogni secondo. In questa squadra si combatte per un centimetro. In questa squadra ci massacriamo di fatica noi stessi e tutti quelli intorno a noi per un centimetro. Ci difendiamo con le unghie e con i denti per un centimetro. Perché sappiamo che quando andremo a sommare tutti quei centimetri, il totale allora farà la differenza tra la vittoria e la sconfitta. La differenza fra vivere e morire. Ok, perfetto. Allora, ti sei scaldato col tempo. Va bene, però ok, buono. Dalla seconda vai. In questa squadra si combatte per un centimetro. Allora, adesso noi dobbiamo essere autorivoli. Innanzitutto, anche se il volume della voce autorivole dovrebbe essere quello medio, medio-basso, però io invece considero di fare un medio ogni tanto anche di alzarlo un po'. Ora, scandisci bene. Bene, sapete col tempo, con l'età, tante cose ci vengono tolte. Chiuso. Ma questo fa parte della vita. Chiuso. Però tu lo impari solo quando, chiuso, quelle le cominci a perdere. Chiuso. E scopri che la vita è un gioco di centimetri. E così è il football. Quindi è molto spezzettata, va bene, ma spezzettando però dovrai mettere queste pause, le devi sottolineare. Devono essere delle pause nette. Ci deve essere, sottinteso, chiuso. Fine, punto, punto. Perché in entrambi questi giochi, punto, la vita e il football, punto, il margine di errore è ridottissimo, punto, capitelo, punto. Quindi non c'è neanche bisogno di aggredirli come fa lui, perché comunque, vabbè, lui è un grande attore, eccetera. Adesso non ci interessa questo. Ma ci interessa è far sì che Emanuele si trovi a fare un discorso davanti a delle persone e che quindi si ritrovi a dover redarguire, dover manifestare tutta l'autorevolezza e al tempo stesso possa anche motivare. Ok? Quando vuoi. Sapete, col tempo, con l'età, sapete, col tempo, con l'età, però tu lo impari solo quando quelle che cominci a perdere no. Allora, riprendiamo, riprendiamo. Però tu lo impari solo quando quelle le cominci a perdere e scopri che la vita è un gioco di centimetri e così è il football. Perché in entrambi questi giochi, la vita e il football, il margine di errore è ridottissimo. Capitelo. Mezzo passo fatto un po' in anticipo o in ritardo e voi non ce la fate. Mezzo secondo troppo veloce, o troppo lento e mancate la presa. Ma i centimetri che ci servono sono dappertutto. Sono intorno a noi. Ce ne sono in ogni break della partita. Sì. Ok. Ci sono in ogni break della partita. Ora, andiamo avanti. In questa squadra si combatte per un centimetro. Punto. In questa squadra ci massacriamo di fatica noi stessi. Punto. E tutti quelli intorno a noi per un centimetro. Punto. Ci difendiamo con le unghie e con i denti per un centimetro. Punto. Perché sappiamo che quando andremo a sommare tutti quei centimetri. Punto. Il totale allora farà la differenza tra la vittoria e la sconfitta. Punto. La differenza fra vivere e morire. Dobbiamo provare? Punto. Sì. In questa squadra si combatte per un centimetro. Punto. In questa squadra ci massacriamo di fatica noi stessi. Punto. Punto. Perché se i centimetri. Punto. Il totale allora farà la... Aspetta che c'è un problema di connessione. La differenza tra la vita e la vittoria. Ok. Sì. Ogni tanto va via la comunicazione. Aspetta. Allora, stai alzando però troppo il volume, troppo l'intonazione, l'intonazione della voce. Ok. Ok. In questa squadra si combatte per un centimetro. In questa squadra ci massacriamo di fatica noi stessi e tutti quelli intorno a noi. stessi e tutti quelli intorno a noi per un centimetro. Ci difendiamo con le unghie e con i denti per un centimetro. Andremo a sommare tutti quei centimetri. Aspetta che c'è un problema. Un attimo. Un attimo. Un attimo. Un attimo. Bene. Ripartiamo, condividiamo. Ecco qua. In questa... In questa squadra si combatte per un centimetro. In questa squadra ci massacriamo di fatica. Noi stessi e tutti quelli che intorno a noi per un centimetro. Ok, scusami un attimo. Ci difendiamo con le unghie e con le unghie. Scusami Emanuele. Attenzione a stessi e più chiusa. Stessi. E anche a noi. Stessi. Ti viene stessi e noi. Noi. Devi chiudere. Stessi e noi. Tutte e due chiusi. D'accordo? Ok, stessi e noi. Bravo. Bravo. Allora, riprendiamo da qua Emanuele. E voglio dirvi una cosa. In ogni scontro è colui il quale è disposto a morire che guadagnerà un centimetro. E va via la comunicazione. E io so che se potrò avere una resistenza pagante... E io so che se potrò avere una resistenza pagante... E io so che se potrò avere una resistenza pagante sarà perché sono disposto ancora a battermi e a morire per quel centimetro. Allora, disposto, e no disposto. 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 Ok, adesso ti sta... Ora stai andando sulle note alte, però stai avendo un'intonazione troppo alta. Invece dobbiamo rimanere medio-bassi. E voglio dirvi una cosa. Medio-basso. In ogni scontro è colui il quale è disposto a morire, chiuso, che guadagnerà un centimetro. E io so che se potrò avere un'esistenza pagante rimani medio-basso, non andare sopra. Ok? Ok. Sì. Di nuovo. E voglio dirvi una cosa. In ogni scontro. E io so che se potrò avere ancora a battermi e a morire per quel centimetro. In questo consiste. In quei dieci centimetri davanti alla faccia, io non posso obbligarvi a lottare. Dovete guardare il compagno che avete a casa. Vedrete che vedrete un uomo determinato a guadagnare, che si sacrificherà volentieri per questa squadra. Consapevole del fatto che quando sarà il momento voi farete lo stesso per lui. Questo è essere una squadra, signore miei. Perciò o noi risorgiamo adesso come collettivo o saremo anniettati individualmente. Anniettati individualmente, ragazzi. Non c'è altro ancora. Sì, sì, c'è altro ancora. Sì, sì, c'è altro ancora. Sì, sì, c'è altro ancora. È il futbo, ragazzi, è tutto qui. Allora, che cosa volete fare? Io l'ho sintetizzato, ovviamente, quello era molto più lungo. Ok? Ah, ok. Allora, che dobbiamo fare? Dobbiamo... Ok. Dobbiamo... Lo rileggiamo cercando di essere autorevole sin dall'inizio. Però l'autorevolezza all'inizio è un po' mitigata. Mi raccomando, ti ripeto, volume medio-basso. Poi abbiamo un'intonazione medio-bassa. Ok? Anzi, forse sai che ti dico? Che il volume deve essere medio-alto. L'intonazione deve essere medio-bassa. Poi abbiamo un tempo che è un tempo medio. Abbiamo un ritmo fatto da pausa netta e un sorriso sicuro. Questo mancava proprio, il sorriso. Non che tu debba sorridere, ma che ci consenta anche di essere un po' più... suadenti nel dire questa cosa. Non so cosa dirvi davvero. Tre minuti è la nostra più difficile sfida professionale. Ci sei? È che non ti sento qui. Va via la comunicazione. Ok. Riprendiamo quindi il discorso da... Non so cosa dirvi davvero, mi raccomando, autorevolezza. Eccoci. Non so cosa dirvi davvero. Tre minuti è la nostra più difficile sfida professionale. Un po' più lento, un po' più... La mia difficile sfida professionale. Chiuso. Tre minuti, pausa. Netto. Ogni volta che c'è una virgola, un punto, netto. Ok. Non so cosa dirvi davvero. Tre minuti è la nostra più difficile sfida professionale. Tutto si decide oggi. Ora noi o risorgiamo come squadra o cederemo un centimetro alla volta. Uno schema dopo l'altro, fino alla disfatta. Siamo all'inferno adesso, signori miei. Siamo all'inferno, signori miei. Più autorevolezza. Siamo all'inferno, signori miei. Usiamo anche un timbro di voce più basso. Medio e basso. Siamo all'inferno adesso, signori miei. Credetemi. E possiamo rimanerci. Farci prendere a schiaffi. Oppure aprireci la strada lottando verso la luce. Possiamo scalare le pareti dell'inferno un centimetro alla volta. Io però non posso farlo per voi. Sono troppo vecchio. Mi guardo intorno. Mi guardo intorno. Sono troppo vecchio. Punto. Mi guardo intorno. Più pausaggiato. Ok. Sono troppo vecchio. Mi guardo intorno. Intorno. Vedo i vostri giovani volti e penso certo... Certo che... E penso. E penso. Allora, più pausaggiato. Allora. Sono troppo vecchio. Chiuso. Punto. Mi guardo intorno. Chiuso. Vedo i vostri giovani volti. Chiuso. E penso. Ok? Riproviamo. Facciamo da io però non posso farlo per voi. Io però non posso... Non posso farlo per voi. No. Sono troppo vecchio. Sì. Mi guardo intorno. Intorno. Vedo i vostri giovani volti. Volti. E penso. Intorno è chiusa e volti è chiuso. No, volti. Volti. Intorno. Vedo i vostri giovani volti. E penso. E penso. Certo che ho commesso tutti gli errori che un uomo di mezza età possa fare. Sì. Un po' più solenne qua. Ancora più grave. Certo che ho commesso tutti gli errori che un uomo di mezza età possa fare. Certo che ho commesso tutti gli errori che un uomo di mezza età possa fare. Bravo. Sì perché io sono... Piano piano piano. Sì perché io... Vai piano. Tempo medio, non veloce. Sì perché io ho sperperato tutti i miei soldi che ci crediate o no. Sì perché io ho sperperato tutti i miei soldi che ci crediate o no. Ho cacciato via tutti quelli che mi volevano bene. Qualche anno mi dà anche fastidio la faccia che vedo nello specchio. Sapete col tempo, con l'età, tante cose ci vengono tolte. Ma questo fa parte della vita. Però tu lo impari solo quando quelle che le cominci a perdere. E scopri che la vita è un gioco di centimetri. E così è il football. Perché in entrambi questi giochi, la vita e il football, il margine d'errore è ridottissimo. Capitelo. Mezzo passo fatto un po' in anticipo o in ritardo. E voi non ce la fate. Ok, attenzione che stai... cominciano a salire di testa. Devi essere più grave. Mezzo passo. Perché stai prendendo poco respiro. Mezzo passo. Capito? Mezzo passo fatto un po' in anticipo o in ritardo. Più grave. Mezzo passo fatto in anticipo. Prendi più aria e mezzo passo in anticipo. Usa di più il diaframma. Mezzo passo fatto un po' in anticipo o in ritardo. Ah, bravo. E voi non ce la fate. Bravo. Mezzo secondo troppo veloce o troppo lento e mancate la presa. Bravo. Ma i centimetri che ci servono sono dappertutto. Sono intorno a noi. Intorno a noi. Ce ne sono in ogni break della partita. Ecco, ma non te ne salire un'altra volta però. Ok. Ma i centimetri che ci servono sono dappertutto. Sono intorno a noi. Ce ne sono in ogni break della partita. Ad ogni minuto. Ad ogni secondo. In questa squadra si combatte per un centimetro. Ecco, qua un po' più autorevole. In questa squadra si combatte per un centimetro. In questa squadra si combatte per un centimetro. E tutti quelli intorno a noi per un centimetro. Sì. Ci difendiamo con le unghie e con i denti per un centimetro. Sì. Perché sappiamo che quando andremo a sommare tutti quei centimetri, il totale allora farà la differenza tra la vittoria e la sconfitta. La differenza tra vivere e morire. Esatto. No. La differenza tra vivere e morire. E voglio dirvi una cosa. E voglio dirvi una cosa. In ogni scontro è colui il quale è disposto a morire che guadagnerà un centimetro. E io so che non potrò avere un'esistenza pagante. Sarà perché sono disposto ancora a battermi e a morire per quel centimetro. La nostra vita è tutta lì. In questo consiste. In quei dieci centimetri davanti alla faccia. Ma io non posso obbligarvi a lottare. Dovete guardare il compagno che avete accanto. Guardarlo negli occhi. Io scommetto che vedrete un uomo determinato a guadagnare terreno con voi. Che vi troverete un uomo che si sacrificherà volentieri per questa squadra. Consapevole del fatto che quando sarà il momento voi lo farete lo stesso per lui. Questo è essere una squadra, signori miei. Perciò o noi risorgiamo adesso come collettivo o saremo agniettati individualmente. Il football, ragazzi. È tutto qui. Allora, che cosa volete fare? Allora, che cosa volete fare? Ok. Allora, che cosa volete fare? Non male. Vedi che hai trovato questa intonazione più bassa? Sì. Ok, ecco. Mo' facciamolo un'altra volta con questo cipiglio qua. Vai piano, vai lento. Cerca di essere autorivole. Senza essere incazzato, però autorivole. Ricordati che tu a un certo punto vai in debito di ossigeno. Cioè che non prendi respiro e allora cominci ad assottigliare e salire. Invece tu hai la tua voce più bella. Perché tu ce l'hai la timbrica più bassa. Capito? Hai una voce che dalla gola può scendere anche un po' più in basso. Invece se te ne vai sopra quando fai la cosa veneta e allora poi facciamo la fine di Zaia che parla veneto quando parla in tv. Capito? Quindi facciamo una cosa invece un po' più neutra. Va bene. Tu dici che in generale... Allora, al di là di questo discorso Sì. Potrei tentare di... Come arma per non alzarmi. Ecco perché qui si tratta veramente di una strategia, di una tattica per non indurmi da solo a finire poi... In alto. Respiro. Devi respirare. Devi fare le pause e devi respirare. Le pause giuste ovviamente. Cercare di abbassare però, però di stare in giudici in generale. Però non ti condizionare perché stare in giù poi significa... Devi cercare di evitare di salire. Io te lo faccio notare. Quando lo fai te lo faccio notare. Così perché adesso ti è poco chiaro. Però te lo faccio notare. Quando sarà. Adesso se tu mi fai delle pause giuste e prendi bene il respiro vedrai che tutto andrà meglio. Ok. Vuoi provare? Ok. Dai proviamo. Da dove ripartiamo? No, li facciamo dall'inizio. Non so cosa dirvi davvero. Non so cosa dirvi davvero. Non so cosa dirvi davvero. Ecco. Tre minuti. È la nostra più difficile sfida professionale. Tutto si decide oggi. Ora noi o risorgiamo come squadra o cederemo un centimetro alla volta. Una schiava dopo l'altro. Fino alla disfatta. Siamo all'inferno adesso signori miei. Credetemi. E possiamo rimanerci. Farci prendere a schiaffi. Oppure aprirci la strada lottando verso la luce. Possiamo scalare le paneli dell'inferno un centimetro alla volta. Io però non posso farlo per voi. Sono troppo vecchio. Mi guardo intorno. Vedo i vostri giovani volti. E penso. Certo che ho commesso. Ah, vedi. Adesso lo stai facendo. Adesso hai perso. Sì. Ok. Perché? Perché non hai preso bene il respiro. Stai andando... Ti stai strozzando. Stai andando troppo veloce. Ok. Ok. Di nuovo, di nuovo. Io però non posso farlo per voi. Sì. Sono troppo vecchio. Sono troppo vecchio. Mi guardo intorno. Mi guardo intorno. Vedo i vostri giovani volti. E penso. Certo che ho commesso tutti gli errori che un uomo di mezza età possa fare. Sì, perché io ho sperperato tutti i miei soldi. Che ci crediate o no. Ho cacciato via tutti quelli che mi volevano bene. E da qualche anno mi dà anche fastidio la faccia che vedo nello specchio. Sapete, col tempo, con l'età, tante cose ci vengono tolte. Ma questo fa parte della vita. Però tu lo impari solo quando quelle le cominci a perdere. E scopri che la vita è un gioco di centimetri. E così è il football. Perché in entrambi questi giochi, la vita e il football, il margine di errore è ridottissimo. Capitelo. Mezzo passo fatto un po' in anticipo o in ritardo e voi non ce la fate. Mezzo secondo troppo veloce o troppo lento e mancata la presa. Ma i centimetri che ci servono sono dappertutto. Sono intorno a noi. Ce ne sono in ogni break della partita. Ad ogni minuto. Ad ogni secondo. In questa squadra si combatte il centimetro per un centimetro. In questa squadra ci massacriamo di fatica noi stessi e tutti quelli intorno a noi per un centimetro. Ci difendiamo con le unghie e con i denti per un centimetro. Perché sappiamo che quando andremo a sommare tutti quei centimetri, il totale allora farà la differenza tra la vittoria e la sconfitta. La differenza tra vivere e morire. Ok. E voglio dirvi un'altra cosa. Aspetta. In ogni scontro. Voglio dirvi un'altra cosa. Voglio dirvi una cosa. E voglio dirvi un'altra cosa. In ogni scontro è colui il quale è disposto a morire che guadagnerà un centimetro. E io so che potrò avere un'esistenza pagante sarà perché... E voglio dirvi una cosa. In ogni scontro è colui il quale è disposto a morire che guadagnerà un centimetro. E io so che se potrò avere un'esistenza pagante sarà perché sono disposto ancora a battermi e a morire per quel centimetro. La nostra vita è tutta lì. In questo consiste. In quei dieci centimetri davanti alla faccia. Ma io non posso obbligarvi a lottare. Eh no. Dovete guardare il compagno che avete accanto. Guardarlo negli occhi. Io scommetto che vedrete un uomo determinato a guadagnare terreno con voi. Che vi troverete un uomo che si sacrificherà volentieri per questa squadra. Consapevole del fatto che quando sarà il momento voi farete lo stesso per lui. Attenzione, non ti perderemo. Consapevole del fatto che quando sarà il momento voi farete lo stesso per lui. Questo è essere una squadra, signore miei. Perciò o noi risorgiamo adesso come collettivo o saremo anniettati individualmente. E' il football, ragazzi. E' tutto qui. Allora, cosa volete fare? Allora, che cosa volete fare? E' il football, ragazzi. Che cosa volete fare? Ok. Bravo. Vedi, adesso la voce ti è rimasta sempre medio-bassa. O leggiamolo l'ultima volta così e così l'abbiamo memorizzato e lo puoi fare a casa. Rifacciamolo. Non so cosa dirvi. Devo chiederti però di aumentare un po' le difficoltà. Di andare, di aumentare il volume. Attenzione, tu andrai con l'intonazione verso l'alto, cosa che sarebbe meglio di no. E andare un po' più veloce. Però mantenendo sempre le pause nette. Se sali troppo ti dico... Ok. Non so cosa dirvi davvero. Tre minuti alla nostra più difficile sfida professionale. Tutto si decide oggi. Ora noi o risorgiamo come squadra o cederemo un centimetro alla volta. Uno schema dopo l'altro, fino alla disfatta. Siamo all'inferno adesso, signori miei. Credetemi. E possiamo rimanerci. Farci prendere a schiaffi. Oppure aprirci la strada lottando verso la luce. Possiamo scalare le pareti dell'inferno un centimetro alla volta. Io però non posso farlo per voi. Sono troppo vecchio. Mi guardo intorno. Vedo i vostri giovani volti. E penso, certo che ho commesso tutti gli errori che un uomo di mezza età possa fare. Bravo. Sì, perché io ho sperparato tutti i miei soldi, che ci crediate o no. Ho cacciato via tutti quelli che mi volevano bene e da qualche anno mi dà anche fastidio la faccia che vedo nello specchio. Attenzione che ho fatto bene. Rifacciamo. Ho cacciato via tutti quelli che mi volevano bene e da qualche anno mi dà anche fastidio la faccia che vedo nello specchio. Sapete, col tempo, con l'età, tante cose ci vengono tolte. Ma questo fa parte della vita. Però tu lo impari solo quando quelle le cominci a perdere e scopri che la vita è un gioco di centimetri. Ah, ora si è salito. Però tu lo impari solo quando quella le cominci a perdere e scopri che la vita è un gioco di centimetri. E così è il football. Perché in entrambi questi giochi, la vita e il football, il margine di errore è ridottissimo. Capitelo. Mezzo passo fatto un po' in anticipo o in ritardo e voi non ce la fate. Mezzo secondo troppo veloce o troppo lento e mancata la presa. Veloce, veloce, no veloce. Veloce. Ma i centimetri che ci servono sono dappertutto. Sono intorno a noi. Ce ne sono in ogni break della partita. Ad ogni minuto. Ad ogni secondo. In questa squadra si combatte per un centimetro. In questa squadra ci massacriamo di fatica noi stessi e tutti quelli intorno a noi per un centimetro. Ci difendiamo con le unghie e con i denti per un centimetro. Perché sappiamo che quando andremo a sommare tutti quei centimetri il totale allora farà la differenza tra la vita e la sconfitta, tra la vittoria e la sconfitta. La differenza fra vivere e morire. E voglio dirvi una cosa. In ogni scontro è colui il quale è disposto a morire che guadagnerà un centimetro. E io so che se potrò avere un'esistenza pagante sarà perché sono disposto ancora a battermi e a morire per quel centimetro. La nostra vita è tutta lì. In questo consiste. E in quei dieci centimetri davanti alla faccia. Ma io non posso obbligarvi a lottare. Dovete guardare il compagno che avete accanto. Guardarlo negli occhi. Io scommetto che vedrete un uomo determinato a guadagnare terreno con voi. Che vi troverete un uomo che si sacrificherà volentieri per questa squadra. Consapevole del fatto che quando sarà il momento voi lo farete lo stesso. Per lui. Questo è essere una squadra, signori miei. Perciò o noi risorgiamo adesso come collettivo o saremo anniettati individualmente. È il football, ragazzi. È tutto qui. Allora, che cosa volete fare? Ok. Bravissimo. Bravissimo. Allora, per tutta la durata del monologo non hai alzato l'intonazione. Cioè non sei andato di testa. Quindi sei riuscito a mantenere questo tono medio-basso. Ok? Quindi, esperimento riuscito. Nel senso che hai capito come dare autorevolezza a questo discorso che già ce l'ha di suo. e che però ti serve come guida per rafforzare questo elemento. Adesso io ti chiedo di fare questi vocali di questo testo, sempre dividendolo in due o tre tranche. e vediamo se riusciamo ad alzare un altro po' l'asticella. Cioè un volume perché la difficoltà... Più alzi il volume, più ti viene la voce di testa. Eh sì. Ok, ma questo... Diciamo che la cosa base l'abbiamo fatta, ma noi le cose basi poi sono le basi di partenza. Questo è per aumentare le difficoltà, per cercare di trovare una... Rafforzarci da questo punto di vista, perché se noi sappiamo in più, poi abbassare è più facile. Ma se noi già partiamo da un livello così medio, poi rischiamo di tenerci sotto. Invece alziamo l'asticella. Facciamo che i prossimi vocali che mi manderai saranno con un volume più alto e una velocità più sostenuta. E quindi torniamo sul 95, sul metronomo. Puoi fare anche una... Vogliamo fare una prova col metronomo adesso, al volo? Ce l'hai davanti? Sì. Vediamo come ci esce questo monologo col metronomo a 95. Vediamo se è giusto. Metto 95, quindi. Sì, metti 95. Vediamo che succede. Mettiamo la velocità tua. Non so cosa dirvi davvero. Tre minuti alla nostra più difficile sfida professionale. Tutto si decide oggi. Ora noi o risorgiamo come squadra o cederemo un centimetro alla volta. Uno schema dopo l'altro. Fino alla disfatta. Siamo all'inferno adesso, signori miei. Credetemi. E possiamo rimanerci. Farci prendere a schiaffi. Oppure aprirci la strada lottando verso la luce. Possiamo scalare le pareti dell'inferno un centimetro alla volta. Io però non posso farlo per voi. Sono troppo vecchio. Mi guardo intorno. Vedo i vostri giovani volti e penso. Certo che ho commesso tutti gli errori che un uomo di mezza età possa fare. Sì, perché io ho sperperato tutti i miei soldi. Che ci crediate o no. Ho cacciato via tutti quelli che mi volevano bene. Stai troppo. Ora ti stai alzando. Attenzione. Ho cacciato via tutti quelli che mi volevano bene. E da qualche anno mi dà anche fastidio la faccia che vedo nello specchio. Bene. Sapete col tempo. Sapete col tempo. Con l'età. Con l'età. Tante cose ci vengono tolte. Ma questo fa parte della vita. Però tu lo impari solo quando quelle le cominci a perdere e scopri che la vita è un gioco di centimetri. E così è il football. Perché in entrambi questi giochi la vita è il football. Il margine di errore è ridottissimo. Capitelo. Mezzo passo fatto un po' in anticipo o in ritardo. E voi non ce la fate. Mezzo secondo troppo veloce o troppo lento e mancata la presa. Ma i centimetri che ci servono sono dappertutto. Sono intorno a noi. Ce ne sono in ogni break della partita. Ad ogni minuto. Ad ogni secondo. In questa squadra si combatte per un centimetro. Troppo, troppo. Medio e basso. Sempre medio e basso. Ok. È salito troppo. In questa squadra si combatte per un centimetro. Ah no, un po' più basso. Se non prendi respiro, Emanuele, non riusciamo a ottenere l'obiettivo. Quindi respiro e scendi giù. In questa squadra si combatte per un centimetro. Sì. In questa squadra ci massacriamo di fatica noi stessi e tutti quelli intorno a noi per un centimetro. Ci difendiamo con le unghie e con i denti per un centimetro. Perché sappiamo che quando andremo a sommare tutti quei centimetri il totale, allora farà la differenza tra la vettura e la sconfitta. La differenza fra vivere e morire. Sì. E voglio dirvi una cosa. In ogni scontro è colui il quale è disposto a morire che guadagnerà un centimetro. E io so che se potrò avere un'esistenza pagante sarà perché sono disposto ancora a battermi e a morire per quel centimetro. La nostra vita è tutta lì. In questo consiste. In quei dieci centimetri davanti alla faccia. Ma io non posso obbligarvi a lottare. Dovete guardare il compagno che avete accanto. Guardarlo negli occhi. Io scommetto che vedrete un uomo determinato a guadagnare terreno con voi. Che vi troverete un uomo che si sacrificherà volentieri per questa squadra. Con sepevola del fatto che quando sarà il momento vuoi farete lo stesso per lui. Ora stai salendo troppo. Intonazione più medio-bassa. Questo è essere una squadra, signori miei. Perciò o noi risorgiamo adesso come collettivo o saremo anniettati individualmente. È il football, ragazzi. Questo è essere una squadra, signori miei. Perciò o noi risorgiamo adesso come collettivo o saremo anniettati individualmente. È il football, ragazzi. È tutto qui. È tutto qui, bravo. Allora, che cosa volete fare? Ecco, ok, bene. Dunque, ti confermo che questo 95 è perfetto per te. Quindi, va benissimo. Se vogliamo alzare l'asticella, dovresti provare ad aumentare il volume e fare 100. Provare con 100. Ok, questo è l'esercizio da fare a casa. Ovviamente con tutta la tranquillità del mondo. Però credo che questo ti sia stato utile, vero? Questo discorso per capire meglio come essere un po' più cazzuti nel dire le cose e come lo è lui in questo film. Ti trovi? Poi raramente poi ti capiterà, insomma, di essere così, cioè, così autorevole per così tanto tempo. Però ci saranno delle cose che dovrai dire con importi in maniera più autorevole. E questo esercizio che abbiamo fatto oggi ti tornerà utile più quello che farai da solo a casa e che poi mi invierai attraverso WhatsApp. Ok. Ok. Allora, dimmi tu, feedback su questa lezione, com'è andata? No, no, a parte è una lettura molto bella e quindi riesci a immedesimarti, però noto che non ho i problemi che potevo avere qualche mese fa, ecco, quello sicuramente. Certo. Sei molto sciolto, quindi stai anche interpretando. Riesco a leggerla prima, riesco a intonarla prima, riesco anche a correggermi. Mentre lo fai, esatto, esatto. E di questo sono contento perché è una grande soddisfazione per me, quindi sono veramente contento. Bravo, molto bravo. Ottimo, ottimo. Continuiamo così. Allora, esercitiamoci sull'autorevolezza, la prossima volta vedremo di esercitarci su qualche altra emozione che comunque ci può essere anche d'aiuto per controllarla oppure per individuarla e anche perché poi è bene padroneggiare varie, vari tipi di emozioni per poterle poi amalgamare meglio nella nostra vita e anche attraverso la nostra voce. D'accordo? Ok. Perfetto, perfetto. Va bene. Allora io ti abbraccio, vogliamo prendere l'appuntamento per la prossima volta o ce l'abbiamo già? Allora aspetta, stop. Aspetta.